Il mondo in ginocchia In un mondo dove i morti camminano è meglio non correre rischi Fuoco! Non ti scordare che Gino li vuole più Sono morti miliardi di persone Non succede un cazzo se ne faccio fuori qualcuno Me ne servono degli altri Fidati di me, sto per scoprire qualcosa di grosso Siamo riusciti a fargli un padone Ma che cazzo fa Igor? Porca puttana, questo parla... Grazie! Grazie! E tu diresti addio a tutto questo? Sei tu un prete? No, stronzo Ma me la cavo bene con le streme unzioni